ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video un nuovo video appunto su delle patatine strane che ho trovato qui in italia sono sempre della santarlo ve le presento perché sono queste qui al gusto cocco e curcuma è sempre un gusto vincitore del concorso che fanno questo è quello della seconda edizione devo essere sincera non so che edizione sono arrivati quindi è possibile che sia l'ultimo uscito in realtà sono un pochino prevenuta su questo gusto perché non sono una grande amante del cocco mentre la curcuma la uso particolarmente volentieri in cucina visto che fa anche bene in ogni caso direi di aprire e di assaggiare il profumo che arriva dal sacchetto è molto forte sa proprio di curcuma vi faccio vedere sono un pochino più tendente al giallino rispetto alle patatine normali diciamo così particolarmente piatta assaggiamo anche questo il gusto è molto strano il profumo sa molto di curcuma mentre il gusto sa molto di cocco è una cosa un po' strana da spiegare per quello che piace a me in realtà non sono molto buone quindi per quello che vi consiglio io vi dico lasciate stare se non vi piace il cocco quindi spero che il video vi sia piaciuto spero che vi abbiate anche trovato un pochino utile vi ricordo che in descrizione trovate link a tutti i miei social se volete potete lasciare un like e condividere il video con i vostri amici che magari amano sperimentare gusti nuovi con il cibo noi ci vediamo al prossimo video have a nice life